Buonasera. Abbiamo avuto un incontro con il Presidente Napolitano che è durato 50 minuti, nel corso dei quali abbiamo preliminarmente dato atto e ringraziato il Presidente Napolitano per il contenuto del suo comunicato ufficiale di ieri, nel corso del quale era possibile leggere un esplicito riconoscimento nei confronti del Presidente Berlusconi e della collaborazione che il Presidente Berlusconi ha offerto al buon esito di questo delicato passaggio parlamentare politico. In secondo luogo abbiamo fatto presente che un Governo aperto alla partecipazione, benché esterna, e al sostegno parlamentare delle principali forze politiche non si concilia con un moto davvero disdicevole per il quale siamo indignati, che non è stato di partecipazione democratica della piazza, ma di vero attacco personale al Presidente Berlusconi. Tutto ciò non si sposa con il clima che è il presupposto stesso per la creazione di un Governo come quello che si ambisce a creare. Fatte queste due premesse abbiamo dato la nostra disponibilità ed il nostro consenso al conferimento dell'incarico al Professor Monti, con il quale ci incontreremo una volta che avrà avuto l'incarico, una volta che avrà ricevuto l'incarico, ai fini dell'approfondimento relativo al contenuto del suo programma e alla composizione del suo Governo. Relativamente al contenuto del suo programma noi ribadiremo che gli impegni assunti con l'Europa, quelli che furono validati in sede europea una volta che il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, andò a Bruxelles ad illustrarli, rimangono il contenuto essenziale per quanto ci riguarda del programma di Governo, perché sono i punti che consentono all'Italia di fare la propria parte per uscire dalla crisi. Sulla composizione del Governo abbiamo ribadito che per quanto ci riguarda non intendiamo accedere ad ipotesi politiche, quindi di partecipazione di esponenti politici a questo Governo e abbiamo fatto presente la nostra preferenza ad ingressi di tecnici che abbiano dato prova di sensibilità istituzionale oltre che culturale di equilibrio, quindi un metodo deve essere quello a nostro avviso di una formazione di Governo che veda esclusi coloro i quali hanno fatto del proprio impegno pura militanza antigovernativa. Questo è il contenuto essenziale e anche la durata del Governo non può essere che collegata al contenuto del programma e alla sua attuazione e al suo svolgimento. Per cui confidiamo che queste procedure abbiano a concludersi in pochi giorni e abbiamo davvero rimesso la disponibilità del Popolo delle Libertà a seguire con attenzione i giorni che verranno per arrivare ad una positiva conclusione della vicenda che come detto dipenderà dai contenuti del programma e dalla composizione del Governo. Grazie. E ho appena risposto.